Una serata di festa è dedicata al mare. Domani si aprirà al pubblico l'EMA, Ecomuseo del Mare e dell'Acqua, nella Palazzina Liberty dell'ex aquedotto di Viale Adua a Sassari. Una visita notturna nell'antica e suggestiva struttura dalla forte prese emozionale e visiva, a cui presenzieranno, tra gli altri, il sindaco Nanni Campus, il commissario della provincia Pietrino Fois, il presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru e i rappresentanti della Fondazione Sardegna. Molte le possibilità di intrattenimento, grazie allo chef Daniele Cui, star sarda della sesta edizione di Masterchef, e all'attore Carlo Valle, che farà da Tredugnon tra i vari momenti della serata, interagendo con gli ospiti. La palazzina è stata allestita per la prima volta nella sua storia e darà ospitalità a diverse iniziative, come mostre di fotografia o l'esposizione di modelli di barche a vela latina. Di grande rilievo la sezione è dedicata a reperti provenienti dalle navi Amerigo Vespucci e San Giuseppe II, partecipante alla grande regata Colombo nel 1992. A fine serata è prevista la premiazione ufficiale della 37esima regata della vela latina, tenutasi a Stintino il primo settembre scorso. Questa apertura, ha dichiarato Piero Aiello, responsabile del Lema, segnerà l'inizio di un periodo di intensa attività culturale, che con tutto lo staff dell'Ecomuseo ci stiamo impegnando a costruire per gli anni a venire. Abbiamo voluto organizzare questo evento di apertura per dare un segnale forte che qualcosa di nuovo sta per accadere nella nostra città.